All right, siete stanchi? Eh si viene che siete stanchi, siete davvero così stanchi? No, dobbiamo smettere, smontare tutti o andare a casa? No, dai, dateci un segno di vita, state bene? Angelo Vanno, la batteria, mister, tre buono moda, questo è presto, in questo momento abbiamo anche Alberto Marzia La Porta, io sono lì, ci dicono che sono ancora due o tre pezzi e poi dobbiamo chiudere, per me è sempre un piacere essere qua, agli amici, molti amici con l'associazione, a mantenere il blues vivo, ma secondo me è molto più vivo il blues di un sacco di cagate, scusate di terre, ma tanto siamo ormai fuori in fascia poterla, che si vedono in televisione, non voglio fare colere, voglio solo divertirvi e dedicare questo pezzo a voi e anche a chi l'ha scritto, al nostro amico Andy, che vive a New Orleans, questo pezzo non parla di uno pazzo, parla di uno di alle gambe pazze, e quando senti questo rito, non riesce proprio a me ferro, resta rito, resta rito, resta rito, resta rito, resta rito, no I vibraziamo i amici, ma io non lo so rischio яр strano, resta rito, resta rito, resta rito, fare tachter Grazie a tutti 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 Grazie a tutti